Io vedo dei processi aggregativi e questo, come ho già avuto modo di dire alla stampa, la vedo come una cosa assolutamente positiva. Noi viviamo in una regione con 1.200.000 abitanti, una piccola regione, quindi è giusto che si creano dei poli aggregativi per quanto riguarda le associazioni, ma non solo. Non vedo questa maretta, questi scontri fra i diversi territori delle nostre regioni. Certo, c'è chi è più veloce e chi è meno veloce, ma l'importante è che alla fine la summa sia unificare, unire, lavorare assieme. Questo è quello che ci chiedono le nostre aziende, perché non dimentichiamoci che le associazioni di categoria, le istituzioni hanno un obiettivo unico, dovrebbero avere un obiettivo unico, lavorare pro-imprese, pro-imprenditore. Quindi le associazioni funzionano solo se svolgono questo compito. Quindi processi aggregativi li vedo in maniera assolutamente positiva. Ma Udine non rischia di rimanere un po' isolata in questo sistema? No, ma guardate, incominciate a guardare il mondo con gli occhi dei giovani. Che cos'è Udine? Che cos'è Pordinone? Che cos'è Trieste? Che cos'è Gorizia? Che cos'è il Friuli Venezia Giulia? Guardiamo il mondo, il mondo chiede altro. Quindi io non parlerei tanto delle ex province, dei territori, ma parlerei di una regione che ha la necessità di affrancarsi a livello internazionale. Questo è secondo me fondamentale. Questa è la cosa che ci dovrà vedere impegnati nei prossimi mesi.